Questa mattina c'è la conferenza stamba in cui noi andiamo a presentare già tutte le iniziative che sono state messe in gambo con questo progetto, progetto ambizioso, quindi che ha come scopo quello principale di digitalizzare la memoria del nostro patrimonio, non solo artistico, non solo visivo, non solo naturalistico, ma soprattutto ha l'ambizione di creare figure professionali che possano lavorare in questo mondo. Il nostro progetto finanziato per 1 milione e 6 vedrà gran parte delle iniziative mettersi in gambo in questo anno, alcune sono già partite, alcuni bandi già sono partiti, altri bandi partiranno a brevissimo e riguardano, ripeto, soprattutto la possibilità per molti giovani del territorio di poter ambire ad acquisire una competenza professionale di livello altissimo. Stamattina sono presenti in collegamento enti importanti come l'Università della Sapienza di Roma, come il Maxi, la stessa Fondazione Mida, la Comunità Montana, tutti enti che hanno firmato un partenariato che farà in modo che soprattutto i giovani possano acquisire queste competenze che nel futuro verranno richieste soprattutto anche a livello non solo locale, ma anche a livello nazionale. La bontà di questo progetto che è stata valutata, ripeto, a livello ministeriale, noi siamo arrivati quarti in Italia su una platea grandissima di comuni, è proprio questo, quello che non riguardano soltanto opere immateriali fini a se stesso, ma soprattutto la possibilità, ripeto, di creare attraverso dei corsi che verranno tenuti, ripeto, dall'Università della Sapienza, dal Museo Maxi di Roma, dalla Fondazione Mida, dal Parco Nazionale del Cilendo, dalla Comunità Montana, proprio quello di fare in modo che competenze acquisite, quindi anche a livello universitario da parte di molti giovani, possano essere messe a servizio della nostra realtà. Quindi è un'opportunità fondamentale e importantissima soprattutto per le giovani generazioni. Sindaco, allora proprio su questo argomento cosa si sente di dire ai ragazzi? Quello di partecipare, partecipare ai bandi, partecipare alle iniziative, hanno un respiro molto molto ampio, quindi non sono legati a logiche strettamente territoriali, ma hanno l'ambizione, ripeto, di fare in modo che queste competenze, queste professionalità possano aspirare anche ad occupare ruoli di livello nazionale. Il Ministero quindi tiene in grosso conto il nostro progetto e lo ha preso anche come base per le prossime iniziative. Nel futuro sono previste ulteriori bandi per la digitalizzazione e il futuro a cui si va incontro anche per le pubbliche amministrazioni e quindi di conseguenza l'invito che io faccio a tutte le giovani generazioni e di attenzionare tutti i bandi che verranno pubblicati sul nostro sito comunale.